La sua ultima quest'oggi, 125 metri, in 300 presenti, San Siro, in piedi, questo è Pippo! Hai Pippo! Pippo mio! Grazie sempre Pippo, per sempre con noi, sempre! Mi tremano le mani, mi tremano le mani! Mi tremano le mani, per questo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.